sacerdotessa della popolazione vututi quest'isola se oltrepassate questo limite sarete maledetti da Bocò lo stregone di magia nera che vi perseguiterà per sempre non avete nessun motivo per entrare avete sempre sognato di andare nel backstage ragazzi è geniale questa cosa ragazzi un po' di asma ahhh 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 no 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 oh 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 cos'è questo posto durante l'anno? vedete quando ve lo dico io andate allo spettacolo del fagiordoglio e se volete essere tutti dovete aspettare vedete vedete lo spettacolo wow mamma mia ma c'è ragazzi stupenda sta cosa andate avanti? o fa qualcosa? guarda come va ma che ansia eccola sei? bando anche tu balla con la mia bambina ritmi ahahah 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 nooo bellissi noooo le o ahahah 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 Grazie.